E' la seconda puntata di Quelli che è il Fuzzal, questo format molto rapido, molto web, molto moltissimo social che noi realizziamo ma non lo avremmo mai realizzato se non ci fosse stata la mente e anche il vulcano di Franco Paone. Ciao Franco, allora ben rivisto, di che cosa parliamo oggi? Ciao Paolo, mi fa piacere aver potuto iniziare questa trasmissione che mettiamo a disposizione per i nostri giovani campioni da Leander 19 fino ai giovanissimi, anzi domenica tra l'altro iniziano pure a giocare gli esordienti e i pulcini. Quindi mettiamo a disposizione di tutti i nostri giovani campioni che hanno bisogno di visibilità e di notorietà perché lo meritano questi ragazzi. Franco, dacci una prima pillola riguardo ai campionati Under 19, poi vediamo anche qualche schermata. Sì, negli Under 19 iniziamo con il nazionale, è finito sabato scorso, il nazionale ha visto l'Acqua e Sapone vincere il campionato nel girone H, prima in classifica, e poi si sono qualificati per i play-off, si sono qualificati Gubbio, Tombesi, Città di Chieti, l'altra squadra. Ortona, aggiungo io. Ortona, scusate, stavo dimenticando l'Ortona. E questi andranno ai play-off, si scontreranno tra di loro. L'Acqua e Sapone andrà direttamente nel nazionale, le altre quattro squadre si dovranno incontrare e uno poi andrà nel nazionale. Allora Franco, leggiamo la classifica. Luca Romano, la TV Lab è pronta con la sua schermata perché l'Acqua e Sapone ha vinto con 50 punti, poi lo diceva Franco Pavone. Vis, Gubbio, calcio a 5, 34, Città di Chieti, 31, Tombesi, 29, ma c'è anche la Futsal Coba sportiva con 29, stesso punteggio per l'accesso ai play-off. Poi Foligno, Civitella, Colormax, Real Dem, Futsal Ascle e l'ultima squadra che è il GAC 2000 con 0 punti. E poi parliamo invece del campionato Under 19 regionale che ha un trionfatore. Sì, poi anche il nostro regionale, il Minerva Chieti ha vinto il campionato proprio sabato scorso, ha vinto il domenica. Anzi, scusate, ha vinto il campionato, in seconda posizione si è classificato l'Orione Avezzano che ha dato fastidio ai bravi ragazzi del Minerva che i nostri due bravi allenatori, Leo Lucilli e Luca Mannatrizio, hanno saputo portare al successo. Li ascoltiamo, ma prima di ascoltarli con Luca Romano andiamo a vedere la schermata con la classifica, quella che decreta questo successo. Minerva 30 punti, Orione Avezzano 28, poi Rocca di Mezzo 25, Futsal Vasto 20, Lisciani Teramo 9, Atletico Silvi 6 e poi c'è il Colonnella A-1. Queste sono le partite che noi abbiamo in schermata considerando che registriamo la puntata di venerdì. Quindi poi ci saranno le integrazioni ma non cambieranno il risultato finale di questo campionato. Allora andiamo a casa Minerva. Leonardo Nucilli, Luca Mannatrizio, oggi parliamo di Minerva, una squadra vincente, complimenti, avete vinto il campionato Under-19 regionale. È andato tutto bene ma non è casuale, è un progetto che nasce da lontano. Sì, innanzitutto grazie, è un progetto che da cinque anni portiamo avanti con tutto il settore giovanile. Quest'anno, Under-19, ha vinto il secondo anno consecutivo, è un lavoro lungo, non è da oggi a domani. È stato veramente difficile portare avanti anche i ragazzi che il giorno di oggi avere un gruppo come quello che abbiamo noi, è così valido, così bello, anche perché è merito solo loro. E niente, è un progetto che speriamo di portare ancora avanti, come già detto. Luca, in realtà gli allenatori siete due perché oltre a Leonardo c'è anche Luca Mannatrizio. E se vogliamo essere proprio completi diciamo anche che c'è un terzo allenatore, quello della prima squadra, che vogliamo ricordare. Certo, il terzo allenatore è Lorenzo Petrocco, che allena la prima squadra. Siamo in tre perché ci sosteniamo, ci aiutiamo in questo progetto che coinvolge i giovani. La Minerva è una società che deve e vuole coinvolgere i giovani nello sport. Ci abbiamo creduto di fin in fondo, la società ci ha appoggiato in questo senso e abbiamo portato i risultati a casa. Anche se non erano richiesti, però ce li abbiamo portati. Questo è motivo di grande soddisfazione per noi, in primis. Motivo di soddisfazione massima per i ragazzi che si sono sacrificati, sempre presenti in allenamenti, si sono visti migliorare nel tempo. Tant'è che molti di loro sono anche utilizzati in prima squadra. Franco Pavone, intanto complimenti a Minerva, ma gliel'abbiamo già fatti e glieli faremo ancora. Under 15, scendiamo di età, fase regionale, c'è un duello bellissimo tra Acqua e Sapone e Città di Chieti in particolare. Sì, sono le due squadre che sicuramente si giocheranno il campionato, però voglio mettere anche in luce i ragazzi del Sulmona, un'altra bella squadra, poi c'è anche il Vasto e le S Chieti che non sono male come squadra. Naturalmente le squadre che si giocheranno il campionato è l'Acqua e Sapone e il Città di Chieti. Sempre con Luca Romano e sempre ricordando che stiamo registrando di venerdì pomeriggio e quindi questo tipo di punteggio verrà integrato, ma solo per far capire la situazione anche graficamente. Con questo duello tra Acqua e Sapone e Città di Chieti 45 punti, Real Sulmona 37, poi un po' più indietro è Secchieti, Fuzz al Vasto, poi Squali, Pescara Sud, Vigor Lanciano, Castiglione e Valfino, Lions Bucchianico, Furie Rosse, Sante Usagno e complimenti a tutti per questo campionato. Franco, facciamo una cosa, andiamo subito in esterna, ti faccio sentire Johnny Marinelli e poi torniamo. Il 13 aprile sarà un evento legato all'aggregazione sociale in comunione a quello che è fondamentalmente la nostra passione, cioè il calcio a 5. Abbiamo invitato tante società della regione e non solo a partecipare a questa iniziativa come prima volta e speriamo che ce ne siano delle altre, legata allo stavo insieme davanti a un buon cibo, buona musica, parlando di quello che fondamentalmente è la nostra passione. Tutto nell'abbassare anche i toni di rivalità e di anche delle volte odio nei confronti dell'avversario. Perché no? Perché fondamentalmente per noi lo sport deve unire, è aggregazione. Questo messaggio è sparito negli anni, non solo nel calcio a 5 ma anche in tanti altri sport. E noi vogliamo provare come prima iniziativa a ridimensionare un po' tutto quello che sono i toni, quelle che sono le rivalità e anche odio. Franco Pavone, ovviamente tutti presenti, 13 aprile a Francavilla per Futsal & Friends. E a proposito di Vulcano, Paolo, permettimi di fare i complimenti a Johnny Marinelli, al Presidente della società, a tutti i dirigenti per questa bellissima iniziativa, la prima. E effettivamente dobbiamo essere tutti presenti perché in questo modo ci facciamo vedere, ci facciamo conoscere. Abbiamo concluso. Grazie a chi ci ospita in questo momento, che la pizzeria e ristorante era ora di Silvi, che ringraziamo ovviamente per l'ospitalità e la disponibilità. Quelli che è il Futsal, non finisce qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.